Seconda edizione, premio Endas Cultura, qui al circolato ovviamente inserito nell'ambito della Carmesse culturale Pescara in Arte. No, tra un po' un elenco di tanti nomi, ma prima di questo vogliamo ricordare che è al settore cultura, perché la crescita culturale coincide. Sono felicissimo di avere questa platea numerosa. Grazie a Sospirini, all'assessore alla cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota. Perché è nato questo premio? Questo premio è nato perché vogliamo dare ampio risalto a tutte le persone che in un modo o nell'altro fanno cultura. Perché magari hanno per il loro comune attuato delle pratiche ambientali importanti, ampio spazio attività culturali. Ma premeremo anche a chi ha inventato un gioco da tavola sull'Abruzzo, a chi dirige un festival musicale, letterario, a chi ha creato un progetto sociale importantissimo come il progetto Noemi. Ma anche l'ambasciatrice delle nevole ortonesi nel mondo. Do, oltre chiaramente a attori, poeti. Sono sicuramente un amico dell'Endas. Vi voglio raccontare una storia che è accaduta in questi cinque anni. Perché prima che iniziasse questa legislatura, questo incubatore di tante cose positive, per tenere insieme il nostro tessuto sociale, culturale, sportivo e promozionale, non era iscritta negli enti che potevano esercitare l'azione riconosciuta dalla regione Abruzzo. Il padrone di casa, il sindaco di Miscara, Carlo Masci. Intanto, anche io voglio fare i complimenti all'Endas e a Simone, perché nell'ultima settimana sono venuto quattro volte qui per iniziative organizzate dall'Endas. E ogni volta ho trovato questa sala pienissima con la gente che stava anche sulle scale. Le cose che organizza l'Endas le organizza bene e queste cose interessano a tanti. Perché poi, quando si parla di arte e si mettono in campo tutte le sensibilità che ci sono in questa città, sicuramente si fa un'attività meritoria che serve per far crescere Pescara. Noi questa mattina in Comune abbiamo premiato insieme al Presidente del Consiglio regionale la squadra di tennis, del Circolo Tennis, i ragazzi. Perché loro devono essere da esempio a tanti altri giovani nell'impegno per raggiungere un risultato, nell'inclusione sociale. Ecco, la stessa cosa penso che si possa dire per questa iniziativa. E li premiate perché loro devono essere da esempio per tanti. Io ho visto un'effervescenza incredibile, anche inaspettata in questa misura. Ho visto tanta gente che mette fuori la propria sensibilità, la propria capacità, le proprie intuizioni e da creare anche quello spirito di comunità che si cementa proprio attraverso queste iniziative culturali. Grazie per quello che fate e per come lo fate soprattutto. Perché tanti si impegnano all'organizzare, ma non è mai semplice. E quindi va il mio ringraziamento sempre a coloro che si impegnano per questo. Perché pensa alle cose concrete. Massimo Pasqualone che ogni volta che parla mi dà qualche suggerimento per poter capire il mondo. L'anno soltanto di cose belle perché ci siamo stancati delle cose brutte. Mi trovo in una veste un po' insolita. Prima faccio un saluto. Anch'io sicuramente sento il dovere di ringraziare l'Endas. L'Endas ha un'idea molto particolare che avevamo come amministrazione. Io l'avevo già condivisa. Volevamo portare la cultura nei luoghi, negli stabilimenti balneari dove solitamente ci si trattiene con le persone. E quindi se parliamo di cultura parliamo anche... di presidere anche quest'anno il comitato scientifico del... Sono arrivati da tutta la regione, anche da fuori, per quello che fanno, come diceva il sindaco, nella quotidianità. Un 30 secondi per pescare in arte, un format che abbiamo creato tre anni fa. Inaugurato, un giorno dopo è stata sancita la zona rossa. Noi ci siamo impauriti. E tutti i pomeriggi organizziamo eventi culturali fino al 7 gennaio. Quest'anno abbiamo allestito la personale di Vanessa Di Rodovico, qui facciamo un applauso. L'artista invegnata nel sociale. Chiuderemo il 7 gennaio e speriamo poi che ci sia una quarta edizione. Grazie. Andiamo a analisi a potenza. Allora, intanto grazie a tutti perché è un momento di condivisione. e in effetti, come è stato detto, cerchiamo di portare in cultura consapevolezza questo per poter promuovere questa consapevolezza perché i giovani sono il nostro futuro. Lui se tacciare. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie mille, grazie mille. Molti di voi lo ricorderanno sui fronti di guerra, come l'Ucraina e nei devastanti terremoti come l'Aquila, Amatrice, Rigopiano o quella dall'altra parte in Albania. Appogliamo con un applauso a Giulio Caponi. Allora, vediamo il segno con la consegna. Grazie. Ringrazio tutti, sarò velocissimo. In primis devo ringraziare Massimo, Simone e Ivan Gianpietro che hanno avuto l'idea di darmi un premio. Ricevere un premio è una cosa bellissima. Infatti ho rinunciato ad andare a lavorare oggi per il premio, pensate voi, avevo una diretta ancora. Avevo tante cose da dire, adesso mi sono un attimo emozionato. A prescindere da ringraziare loro, io sì, lavoro insieme a Matteo Veleno, questo ragazzo che è qui da tanti anni e cerchiamo di portare al livello nazionale, perché lavoriamo per il nazionale Rai e Mediaset, l'Abruzzo-Pescara, sempre bellissima, in qualsiasi modo, in qualsiasi... Noi ci alziamo la mattina e cerchiamo le storie belle, anche se a volte dobbiamo raccontare anche la cronaca nera, il brutto. Però l'ottimismo è quello che la mattina ci spinge a raccontare, di venire a Pescara, di venire in Abruzzo, perché non è che siamo fortunati, di più. Noi viviamo una terra bellissima, una città bellissima, questo per dire che non vogliamo sentire le critiche. Noi viviamo in un mondo che si solo critica, si critica, invece ci dobbiamo fare un applauso tutti perché, ripeto, perché la racconto tutti i giorni nei Tg, nei vari servizi, viviamo in un posto bellissimo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono un po' l'imbarazzo perché non sono abituato a ricevere premi perché... Andrea Sciarretta. Premato correttamente dal Presidente. Pescara ospita dal 2018 il primo ed unico reparto di terapia subintensiva pediatrica. Ma non è di Noemi quel reparto, dovete uscire con la consapevolezza che quel reparto è della comunità. Il progetto di Noemi è il Bambino Gesù di Roma è consapevolezza e cultura. Quindi, come dico sempre, il progetto di Noemi non è mio. Io sono il promotore perché Noemi mi ha dato questo incarico di non tornare a casa. Quindi, non è che si scherza con Noemi. Però raccontare il bello dell'Abruzzo. Il bello dove molte volte non c'è. C'è solo sofferenza. E in verità è stata in grado di raccontarlo, anche se è forza molto evidente, molto dura. Molte volte, dal di fuori, qualcuno può anche giudicare. Ma l'ha fatto così semplicemente perché esiste. Siamo una conduttrice e attrice di vari programmi. Grazie. 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 Grazie a Endas, al Comitato Regionale, al Comitato Scientifico. Grazie al Signor Presidente. Simone che mi ha annunciato questo premio in un momento apicale del mio Covid. Perché sono stata ben 30 giorni reclusa in casa. Non è vero che è una semplice influenza. No. Con un giorno anche di ricovero in ospedale. Per cui è arrivata questa bella notizia e mi ha ridato una botta di vita, come si dice. In realtà è proprio la testimonianza che il premio Endas fa passare il Covid. È una panacea di tutti i mali. Allora, io sono ovviamente contenta e imbarazzata perché il signor ha detto prima, vengono premiati i migliori, ma io mica lo so se sono la migliore. Ogni volta io mi rimetto in discussione, io non lo so. Certo è che io sono un'attrice di teatro, non solo di teatro. Ho sicuramente avuto il piacere questa sera di rivedere tanti amici e colleghi con i quali condivido questa serata meravigliosa. Mi chiedono, ma tu che lavoro fai? Perché è come se il teatro fosse una passione. Il teatro è un lavoro. E vorrei che si comprendesse anche che il lavoro dell'attore non finisce sul palco. Che comincia molto prima, poi si sale sul palco, si interpreta e si continua attorno col palco. Perché il teatro è veramente l'essenza del fenomeno del contagio, delle suggestioni e del giudizio di condiviso. E quindi anche questa sera io sono felice di condividere con voi e di condividere e dà anche conferma che non si può essere soli al teatro. Ma c'è questa quarta parete che a volte viene abbattuta. E questa sera con voi ne do la conferma che il teatro va condiviso. È un spazio di comunicazione, di dialogo e di condivisione. Grazie, grazie ancora a tutti. Grazie.